Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, video con il sole sulla faccia, guardate che figata, pazzesca Non importa, questo è un dettaglio, ma oggi, oggi, come avete visto nel titolo, abbiamo un'altra sponsorizzazione Cioè, un altro negozio ci ha dato un'opportunità di mandare a voi, tutti coloro che vogliono naturalmente farlo Un altro coupon, anzi due coupon sconto nel loro negozio Vi do una leggera infarinata totale, poi guardiamo bene il negozio dal dettaglio Il negozio è Wrapper, ok? Cos'è la Wrapper? La Wrapper non è nient'altro che sono le nuove vernici che si possono usare dappertutto, rimovibili Figata, pazzesca, perché se voi sbagliate a verniciarvi la bici, la macchina, la moto, quanto altro In un attimo togliete, come una forse una pellicola, la vernice Per cui non dovete carteggiare, scrivervi proprio nel modo più assoluto Secondo me è un'innovazione assoluta, è fantastica Io devo farci assoluto un altro lavoro come mi arrivano le bombolette E ce n'è di vario tipo Cosa c'è l'offerto quest'oggi, poi partiamo nel negozio Due coupon Allora, se voi andate nel sito, adesso vi farò vedere poi con calma E avete lo sconto spedizione solo se arrivate, adesso ve lo guardo qua, a 75-79 euro, ok? Invece, col mio coupon sconto, cioè Agorano06, usi i limitati, i limitati Avete lo sconto spedizione ogni volta voi comprate anche solo una bomboletta per provarla Per cui si va tranquillamente nel negozio, compriamo una bomboletta, coupon sconto Agorano06, spedizione gratuite Usi i limitati ragazzi, per cui potete farvi l'ordine che volete, anche 50.000 ordini, non pagate mai la spedizione Altro coupon sconto, però uno solo a utente ragazzi, cosa qua? È Agorano06-20% Per cui avrete un solo sconto del 20% sul vostro ordine Per cui vi conviene farvi un ordine bellissimo, ok? E farvi un bel 20% di sconto, così avrete una cosa interessante Adesso andiamo a guardare bene bene il negozio del sito Eccoci qua ragazzi, il negozio è Wrapper, Remover Spray Paint, ok? Venite spray rimovibili Come possiamo vedere, che siamo anche adesso nel Back Friday, ma poco ci interessa Possiamo andare a vedere i nostri infoprodotti Ci facciamo un giro, come possiamo vedere, abbiamo Eccoci qua ragazzi Sono bombolette, bombolette, bombolette normali, vernici anche di altro tipo, vedete un pochettino Per tutti gli usi Per cui non riguarda solo, adesso il mio canale parla di moto, motori Di una moto, di una macchina per fare tuning, di una mountain bike, di una bicicletta Qualsiasi cosa che potete Di un cerchione E potete tranquillamente rimuovere la vernice tranquillamente come volete Perché voi, adesso vi faccio vedere la pagina principale, come ve la presento Avete un pochettino Qui hanno dipinto, è vero ragazzi, è vero Hanno dipinto un cerchio E dopo averlo fatto sciogare Naturalmente possiamo, per un errore, uno sbaglio Come si sa che si può sbagliare, togliere il colore Qui abbiamo tutti i colori disponibili ragazzi Per cui già abbiamo l'imbraccio della scelta E vedete, campi di utilizzo, guardate ragazzi Tuning, bricolage, modellismo, sport, grip Cioè ragazzi, la tavola da surf Se non vi rendete conto Se possiamo parlare di tutto, di tutto Cioè io vi consiglio di andare nel sito, ok Il sito si chiama wrappingspray.com Farvi un giro E vi ricordo, allora Torniamo alle cose Adesso dice Eh ma quanto costano? Ok Facciamo la bomboletta La cosa che naturalmente tutti possiamo usare Qui abbiamo vari colori Adesso prendiamo lì Siamo sui colori opachi, ok Cosa vogliamo? Un colore fluo Perché vogliamo farci cerchi della moto fantastici Perfetto Guardate qua ragazzi 14,98 Naturalmente dovete pagare le spedizioni Giusto? Per cui Mettete Agorano 06 Spedizione gratuita 14,98 Ok Arriviamo alle spedizioni gratuite Aumentiamo le nostre bombolette Mettiamo Agorano 06 Meno 20% Cosa succede? Scontro nel 20% Per cui ragazzi Ci sta come cifra Perché sono un bomboletto comunque speciale Io ho pagato Vi faccio un esempio Un bomboletta normale Polioletanica L'ho pagata 18 euro Qua ragazzi La paghiamo 14 euro E possiamo anche rimuoverla Per cui Come vi diciamo già prima Abbiamo un vantaggio Del Sbagliamo Possiamo toglierla Fra 6 mesi Non ci piace il colore Possiamo cambiarlo Cioè Ragazzi 14 euro Cosa sono condosito Per una bomboletta? Parliamo di problemi speciali Se già vogliamo comprare Una bomboletta speciale Di quelle fatte in colorificio Sono 18-20 euro Se no 22-26 Vi dico questo prezzo Perché lì so Perché comunque Mi hanno Mi sono informato Devo fare delle colorazioni Per la moto E via Io vi consiglio Mi vedete anche dietro Ragazzi Guardate Mi vedete anche dietro Proprio Doppia immagine Ultra Guardate Ciao belli Vedetemi in fondo Comunque Dopo questa pazzia Vi consiglio Di andare Sul sito Wrapper.com Ok ragazzi Farvi un salto Le bombolette E provatele Quella di costa 14 euro A bomboletta A 06 Spese gratuite Oppure A 06 Meno 20% Abbiamo lo sconto Dopo questo Io vi lascio Nel sito Buona visione Buona spesa Muoversi ragazzi